Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, è intervenuto al termine del MATC vinto contro l'Olympiakos, 3 gennaio il risultato finale. Ecco le sue parole ai microfoni del quotidiano spagnolo Marca. Siamo contenti, vincere in Champions è mai facile. Loro sono venuti per difendersi. Siamo soddisfatti perché abbiamo avuto la possibilità di trovare spazi nel secondo tempo. L'espulsione ci ha sicuramente limitato, non puoi rischiare troppo con un uomo in meno. Pique. Non so, non ho visto l'azione. Non posso confermare il fallo di mano.